Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 16 Ultimate Team Un video un po' particolare perché non è né una recensione né uno squad builder ma un piccolo glitch che potrebbe far felici molti utenti Sapete che i giocatori normalmente si stancano facendo le partite quindi dovete o utilizzare una squadra di riserva per ricaricare la forma fisica O utilizzare proprio queste carte che spesso sono anche abbastanza costose Parliamo nell'ordine per quale di squadra anche più di 1000 credit che sono cifre importanti considerando che ogni 3-4 partite dovete ricaricare l'energia ai giocatori della squadra titolare Navigando in rete ho però scoperto una cosa molto molto particolare Le carte speciali quindi gli inform, i men of the match, i team of the season, i team of the year eccetera eccetera Non si stancano mai nonostante nel menu prima di lanciare una partita, prima di lanciare la ricerca Venga riportato che la forma fisica è scesa perché partendo da 99 va giù sempre di più fino ad arrivare mi pare a un 10 di forma fisica In campo appena iniziata la partita vedrete che l'energia sarà tranquillamente a 99 quindi al massimo Ho fatto un paio di prove ed effettivamente i miei giocatori team of the season che avevano nel menu riportato solo 70 di forma fisica All'inizio della partita avevano 99 e uno dice ok magari la barra era piena però si stancavano più velocemente No, la forma fisica scende normalmente durante la partita quindi non correte il rischio di avere al 45esimo i giocatori già senza energia Li ritrovate normalmente, cosa vuol dire questo? Vuol dire che per chi ha tante di queste carte magari anche non costosissime Magari ha una squadra di full inform da 10.000 credit quindi in totale 110.000 crediti spesi o qualcosina di più Può risparmiare sulle carte forma fisica perché non andranno mai a scendere Per avere la certezza cosa ho fatto? Ho messo dentro un giocatore oro normale in questo caso abate E ho verificato che però lui si scende di forma fisica ed il valore è quello riportato nel menu Quindi se aveva 73 di forma fisica appena iniziata la partita se mettete in pausa vedrete che avrà 73 O comunque un valore simile perché non è riportato però potete vedere che la barra non è piena gli manca una bella tacca È un piccolo glitch molto curioso funziona solo per le partite online però offline non funziona E può essere utile per chi non ama spendere, vuole risparmiare magari a tanti già inform o team of the season Può comprare invece che quelli di squadra quelli singoli andando a risparmiare qualcosina Ditemi se sapevate già questo trucchetto no? Questo piccolo bug del gioco Noi ci vedremo presto, ciao a tutti